Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi del Paese sulla base del PIL, che non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la compassione né la devozione al nostro Paese. Misura tutto tranne ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.